Una vera filiera d'erba, quella da fumare ovviamente, è dell'Hashish, quella che correva tra Napoli e Ortona ed interrotta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Chieti. L'epilogo dell'operazione Panda con i 5 arresti di martedì e il sequestro di 70 grammi di hashish che si aggiungono ai 7 chili rinvenuti dall'inizio delle indagini in ottobre dello scorso anno e poi ancora mezzo chilo di marijuana, 112 semi e 3 bilancini di precisione. Una risposta immediata alla sollecitazione del prefetto di Chieti, Greco, che all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza aveva chiesto coordinamento e attenzione all'emergenza droga, specie nell'Ortonese. Abbiamo effettuato ieri 5 arresti ad Ortona, sempre ieri i colleghi dell'arma ne hanno effettuati altri 4. Ciò dimostra che c'è una sinergia a fare forze di polizia, che c'è un coordinamento da parte di Sua Eccellenza e Signor Prefetto di Chieti. Abbiamo una procura molto attenta, diretta dal dottor Pietro Mennini, e lavoriamo alla cremente senza mai abbassare la guardia. La mente dell'organizzazione tutta ortonese era il trentenne Fabio Napoleone, che teneva i contatti diretti con i fornitori napoletani. L'ordinazione poi la faceva Claudio Di Meo, di 32 anni, mentre chi anticipava i soldi per acquistare lo stupefacente era Marco Cupido, di 46 anni. Chi andava a Napoli, il corriere, era il cinquantenne Giuseppe Terzano. Con i fornitori trattava il Napoleone, che lasciava poi al Terzano il trasporto della droga. Lui lo precedeva, di una ventina di minuti, con la sua macchina, facendo come una sorta di staffetta, pronto a tornare indietro ed avvertire il corriere se lungo il tragitto c'era la presenza delle forze dell'ordine. La droga arrivava ad Ortona e aveva subito a disposizione una rete di pusher di fiducia. Le ordinanze di custodia cautelare già eseguite nei confronti dei cinque richieste dal sostituto procuratore di Chieti Campo sono state emesse dalla GIP Flammini. Per le fiamme gialle la conferma che Ortona è un punto nevralgico di smistamento traffico e consumo di droga. L'incente quantitativo, presumibilmente piazzato, oltre a quello sequestrato dal sodalizio scominato, segue di pochi mesi un altro importante sequestro, un chilo e mezzo di cocaina, che una banda di albanesi si preparava a mettere sul mercato in città. Grazie.